Nel primo match ottobrino il Pineto vince per 3-0 contro la Vigor Senigali allo stadio Mariani Pavone in vantaggio nella prima frazione tutto in un minuto con Allegretti e Maio nella ripresa Giambè confeziona il Tris nel pre-partita alto momento di commozione dedica dei tifosi pinetesi nei confronti dei tifosi dei cittadini senigalliesi per l'alluvione che li ha colpiti. Calcio d'inizio per gli ospiti il match inizia con ritmi pimpanti della Quercia tiene vivo il pallone Allegretti a carezza per Maio ma Roberto blocca ancora l'ex notoresco a un pertugio giusto alla mezz'ora ma si trascina il pallone in posizione defilata al 36esimo si rompono gli indugi capitano della Quercia pennella al centro respinta incerta di Roberto e Allegretti ringrazia e confeziona il vantaggio neanche il tempo di esultare che Maio ben imbeccato raddoppia immediatamente per gli abruzzesi i marchigiani provano a rialzare la testa Mori prende la mira Mercorelli respinge il pineto vuole però chiudere subito i conti Allegretti splendido aggancio e giravolta pallone alto nel finale di primo tempo su un cross tagliato né capitano pesaresi né Magigalluzzi riescono ad arrivare sull'ottimo calcio di punizione dalla parte opposta su azione insistita e Domizi ad andare a un passo dal Tris ma super Roberto respinge in corner nella ripresa la contesa vede la Vigor provare a ripartire e riaprire il match ma il pineto è bravo a gestire e non concedere occasioni al settantesimo ancora i padroni di casa vanno vicinissimi al Tris Allegretti alla figurine Parini spettacolare conclusione e altrettanta spettacolare risposta di Roberto poco male per i biancazzurri alla mezz'ora a Giambè gol di altissimo lignaggio dalla tre quarti che beffa l'estremo ospite nel finale ero raccio a tu per tu dell'ex Castelfidardo con Roberto ma ha risultato ampiamente acquisito per i pinetesi